Ogni giorno comunichiamo. Ci scambiamo informazioni e conoscenze. Comunicare è trasmettere, entrare in contatto. Noi di Estra offriamo soluzioni avanzate per la telefonia e il web. Proponiamo servizi su misura per i clienti. Un sistema di gestione innovativo ed efficace garantisce servizi di telecomunicazioni e di internet veloci e sicuri. Perché comunicare ci avvicina. Estra. Telefonia e web. Grazie.